Benvenuti ragazzi, questo è un nuovissimo video, yes baby, bentornati Siamo qui in una nuovissima reaction della nuova canzone di Samuele e di Martino Lemon Se non conoscete questo youtuber e non youtuber che? Ah, fa 200.000 iscritti circa E continua a salire perché? Perché fa molti video di rimorchiare ragazze Tipo già chi bacia schiaffo e roba del genere, fa milioni di views Fa pochi video, però quando li fa li fa bene Ovviamente quello è il parere mio, il parere vostro può essere diverso Comunque, fa tutti i video del genere, guarda a caso la sua canzone si chiama Lemon Quindi Limone e di sicuro inteso bacio perché fa i suoi generi di video Oggi faremo le reaction a questa canzone, non so cosa aspettarmi sinceramente Quindi iniziamo Appunto se vedete in alto a destra, Limone è un ragazza berlino in tutti i video del genere Ok, credo sia trap dalla base Perché non credo sia la faccia elettronica Allora, allora, già dopo due parole Autotune si sente tantissimo Spero che non sia tutta la canzone così perché veramente tutta con l'autotune Si, si sente tantissimo l'autotune Quindi qua, i soliti dissing da youtuber No, ecco appunto, soprattutto lui che fa roba del genere Video del genere Beh, views fa milioni di views ogni volta che fa un video Quindi, tranne questo video che attualmente ha 30.000 visual Eh beh, gli haters si smerdono sempre nelle canzoni Eh, effettivamente qua parla degli iscritti che sa Ma non ha milioni di iscritti, non ce l'ha Eh, il ritornello ci sta Il ritornello è fatto bene Finora ho usato solo autotune E a me non piace che usi solo soltanto autotune Però il ritornello è bello Cioè, mi piace, l'ha fatto bene Il ritornello l'ha fatto bene Comunque Sarebbe strada ridere se non arrivasse mai il milione di iscritti Sarebbe troppo da ridere Perché se la chiamata qua Non per dire, però Ti prego, togli l'autotune adesso Almeno la seconda parte canzone Non l'ho tolta Il podcast Lemon casualmente Uh, attenzione qua Il dissing verso chi ascolta Cioè, non dissing verso qualcuno Eh, ovviamente se Tv7 segue più gente, no? I suoi haters Uh, questi fa tutti i dissing in sta canzone, raga Cioè, ormai quando ci fa canzoni trap di youtuber Sono tutti quanti dissing A me l'ha fatto bene il ritornello Sinceramente Almeno secondo me l'ha fatto bene A me piace la page così Il ritornello Il resto della canzone sinceramente Fino ad ora non mi è piaciuta Magari si predisse in quelli stati belli Però Come canzoni in sé non mi è piaciuta Il ritornello però è orecchiabile È bello, l'ha fatto bene Perché si è fatto la voce troppo grossa con l'autotune Poi il limousine, sai, che si sboccia Cioè E è finita Cosa dire? Autotune Questa canzone la puoi rinominare benissimo autotune Perché Autotune Raga Ha usato troppo autotune Non è male Il testo ci stava Perché trap Quindi non ha zecato niente di rime Il ritornello però L'ha fatto bene Quello sì, quello è bello A me è sinceramente piaciuto Quindi raga Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi per nuovi video Vlog, reaction Ogni settimana Quindi lasciate like Iscrivetevi Commentate Condividete Con i vostri amici Ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Ciao